Questa è la video recensione di Piove di Paolo Stripoli del 2022, un horror familiare, un horror psicologico, molto 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 bello, ma vediamo perché. La trama, Thomas, questo padre capofamiglia, si trova a casa solo con il figlio adolescente Enrico e la figlia minore paraplegica, la madre non c'è, non vi diciamo perché lo scoprirete guardando il film, però insomma questa famiglia è orbata dalla presenza della madre, è una presenza importantissima, Thomas è costretto a fare tanti lavori per mettere d'accordo il pranzo con la cena, viene fra l'altro anche licenziato, deve fare il badante, deve fare l'autista, insomma fatica veramente tanto, in più è depresso appunto per l'assenza di questa donna, anche della moglie che appunto era una famiglia bella unita e questo è l'evento tragico che non diciamo poi depopererà di questa presenza importantissima. Allora nel frattempo da la pioggia, in questa Roma plumbe appunto la pioggia sembra far risorgere dalle forze ectonie della terra questo male sotto forma di nebbia che sembra impossessarsi appunto delle parole delle persone per cui anche la città comincia a impazzire e cominciano a succedere eventi delittuosi. Ci fermiamo qua con la trama, bel film, bel film diretto con mano abbastanza salda da questo Stripoli che è del 1993, quindi giovanissimo, un ragazzo giovanissimo che ha fatto il centro di cinematografia a Roma e che aveva fatto nel 2021 con De Feu, aveva già fatto il convincente, bello e classic horror story che ci era piaciuto, però ha confermato le buone speranze che avevamo riposto in lui con questo bel film, gli attori assolutamente tutti in parte, c'è Rangione che avevamo conosciuto con i fratelli Dardenne, Cristiana Dell'Anna che fa la madre, che è bravissima soprattutto nelle scene ad alta intensità emotiva, scene horror, veramente spettacolare, bravo l'adolescente Francesco Gheghi, ma anche la bambina, questa adolescente non stereotipato, bellissima la sceneggiatura di Jacopo del Giudice che ha scritto il film appunto con Stripoli e bravissima Elena Riccioccio, Elena Riccioccio la vogliamo vedere tantissimo perché è un'attrice veramente molto molto brava, la conosciamo ovviamente come speaker, la conosciamo come presentatrice della maleducazione, però a cui veramente tratteggia questo personaggio della prostituta Marta che sembra veramente l'unica, nonostante faccia un lavoro così complesso, sembra veramente la figura più pura in questa città veramente devastata dalla violenza. Anche il cast tecnico, assolutamente di grandi livelli, le musiche bellissime di Ralph Keunen, la fotografia plumbea di Cristiano e Nicola che appunto ci restituisce una Roma assolutamente non cartolinesca, il montaggio bello serrato di Marco Spoletini, e poi anche importantissimo il sound design di Marc Bastien, questi nomi anche francesi perché è una produzione italo-belga, produce la propaganda, ha avuto qualche problema nella distribuzione perché è stata vietata ai minori di 18 anni, è una scelta scelerata che gli ha causato qualche problema, poi per fortuna è stato abbassato a 14 anni. Cosa dice questo film? Questo film è bello, si vede che il regista è un cinefilo che ha visto tante volte Shining, però lo utilizza, lo riutilizza in modo non fastidioso, in modo congruo, in modo opportuno, che ha visto, c'è di mezzo l'esorcista, c'è di mezzo assolutamente anche, insomma tutto Stephen King, l'ha capito molto bene, The Mist, c'è di mezzo anche Carpenter, le scene finali, che non vedremo mai neppure sotto tutto quali siamo, il suono li dovete vedere assolutamente, rimandano direttamente a John Carpenter, insomma un ragazzo del 1993 che ha già capito così bene il cinema, beh, chapeau, tanto di cappello, non vediamo l'ora di vedere la sua prossima produzione, la sua prossima creazione, ma è sicuramente un ragazzo che deve fare cinema. In un'intervista dice una cosa bellissima, di essere stato un adolescente bullizzato, ma che il cinema horror gli ha dato il coraggio per andare avanti, e adesso lo ripaga facendo questi bellissimi film, sia lui come The Fan, insomma, devono lavorare, andate per vedere anche i classic horror, story assolutamente, dicevamo anche gli effetti speciali belli, e questa cura del sound design, ma non un horror basato sui jumpscare stupidi, qua c'è una sceneggiatura molto bella, ben scritta, è un film ben scritto, è un film ben girato, insomma, non ve lo potete perdere per niente al mondo, anche per noi amanti dell'horror, perché veramente va a scavare come in venature carsiche, psicologiche, veramente, che riguardano tutti, perché si parla della famiglia, del taciuto, delle cose taciute in famiglia, del non detto, dei sottotesti, è veramente un film ben scritto, ben diretto, ben girato, ben recitato, andatelo a vedere, cercatelo, recuperatelo in seconda, terza, quarta visione, andatelo a recuperare, assolutamente, perché questo piove di Stripoli non deve mancare nella vostra cineteca ideale. E poi, qui concludiamo, è un film horror che ha capito che non è didascalico, ha capito che il film horror è come una barzelletta, la rovini al momento che la spieghi, lo stesso nell'horror, l'horror deve rimanere sempre anche un sottaciuto, un non detto, un inespresso verbalmente, perché comunque deve inquietare, deve entrarti dentro, e questo film ti entra veramente nei pori e ti lascia soddisfatto. È un bellissimo horror psicologico, horror familiare, anche per certi versi body horror. Assolutamente un film da non perdere.